Due amici si stanno facendo delle confidenze, no? Sul sesso. A un certo punto uno va a quell'altro, ah oh, non ci crederai, ma ho finalmente trovato il punto G della mia ragazza. Però te va, finalmente, oh. E non stava? E c'è la mia amica sua. La Sveglia dei Gladiatori